ciao this is true stories it's the news we report on international true stories and this is a new episode ciao qui true stories it's the news we report on international true stories e oggi siamo a chieti nella villa comunale si può dire che questo è un punto di ritrovo per chi vuole fare una passeggiata con i bimbi ci sono persone di una certa età ma anche molte famiglie una panchina nel verde al centro della città molti di questi palazzi che noi vediamo qui adesso oggi giorno hanno trovato un'altra destinazione come la casa dello studente museo archeologico quello che è molto elegante sono le fontane e le tantissime panchine che si possono trovare qui un vero punto di ritrovo per le famiglie le persone anziane in qualsiasi momento della giornata perché comunque ci sono anche dei punti di ristorazione e di qualche possibilità di mangiare qualcosina e un gelato e cose di questo tipo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.